In un mondo sempre più connesso, ogni giorno vengono generati milioni di terabytes di dati. Da dove nascono e come vengono prodotti? Tutti noi siamo creatori di dati. Le operazioni quotidiane dei nostri strumenti li producono incessantemente. Un flusso enorme e costante di informazioni riguardo persone, attività e luoghi che sta costruendo le basi per permettere ad ogni azienda di creare nuovo valore ed ottenere un vantaggio competitivo. Marco, ad esempio, è il responsabile di magazzino in un pastificio. Confrontando informazioni della produzione interna con dati da fonti esterne come i social network o le previsioni meteo, può sapere sempre quanta merce fresca tenere in magazzino, evitando inutili sprechi e allo stesso tempo rispondendo con efficacia alle richieste della distribuzione. Sara, una web marketing manager, aveva bisogno di analisi più attendibili sulle necessità del suo mercato. Grazie a tecniche come quella del tax mining, oggi può capitalizzare le interazioni che avvengono su Facebook, Instagram e YouTube per definire strategie di conversione mirate e misurabili. Andrea, invece, è un responsabile di produzione. Dopo aver installato su tutto il parco macchine dei sensori che comunicano con una centrale di controllo, oggi possiede dei modelli che gli permettono non solo di tenere monitorata la produzione, ma soprattutto di prevedere i guasti, tagliando così i costi di manutenzione straordinaria ed impedendo costosi fermi produzione. Ciò a cui stiamo assistendo è una trasformazione radicale dell'economia. Nessun settore potrà rimanere indifferente. Sei pronto a seguire il vento del cambiamento? Miriade. Play the change.